Pronto? Pronto va? Oh Mirko, ma qualche problema? No niente, ti volevo chiedere un consiglio. Io ho i miei amici single che sono tristi e bevono, gli amici fidanzati sono tristi e bevono, gli amici sposati sono tristi e bevono, ma io che posso far per aiutarli? Semplice, apriam bar!